Giornata speciale questa mattina all'Università di Salerno per 55 nuovi docenti, di cui 50 docenti ordinari e 5 ricercatori. Difatti l'Università di Salerno conferma il suo dato statistico e conferma una voglia di un progresso nei confronti dell'occupazione. Possiamo definire la giornata di Erna come se fosse un primo giorno di scuola? Sicuramente, in effetti è come tornare un po' a scuola, anche se in una posizione diversa, maggiormente impegnativa, densa di responsabilità, ma anche di tanta soddisfazione. Le emozioni che si provano in questo giorno, in questo momento? Grandissima, visto che l'attesa e il percorso è stato comunque difficile, quindi siamo molto contenta. Quindi giunge tutto a conseguimento di un lavoro profuso in precedenza negli anni passi? Lungo percorso di studio, dottorato, ricerca, concorso di ricercatore, insomma ricerca all'estero, quindi sono molto soddisfatta. Ecco finalmente che c'è un riconoscimento ufficiale di quello che uno ha fatto. Gli obiettivi, prima di partire? Gli obiettivi sono quelli che diceva il nostro rettore poco fa, cioè di contribuire ancora di più a costruire una comunità di persone che lavorano insieme, che hanno il piacere di fare ricerca insieme e di affrontare le sfide della valutazione, che oramai segnano sicuramente un passaggio fondamentale e non rinviabile nella competizione tra le università. Quindi cerchiamo tutti in questo spirito di lavorare per la nostra università. L'Università di Salerno che rappresenta sempre di più un fiore all'occhiello per il mezzogiorno d'Italia, ma non solo. Oggi 55 nuovi docenti, 50 docenti e 50 ricercatori sono andati a far parte del team dell'Ateneo. Sì, è una gioia grande perché poter festeggiare significa che quello che abbiamo immaginato, quella lucida folia del rettore di voler far crescere l'Ateneo dal punto di vista quantitativo, oltre che ovviamente necessariamente qualitativo, si realizza. Noi abbiamo realizzato in questo primo anno e poco più di rettorato, 176 tra nuove assunzioni e passaggi di carriera. L'abbiamo fatto ovviamente grazie all'impegno chi era in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, rispettando tutti gli equilibri di bilancio perché ovviamente nella vita tutto va fatto, purché nel rispetto delle regole che sono sancite. Per noi è un motivo importantissimo perché Salerno può e deve competere se ha la capacità di mantenersi compatta, in cui si capisce che siamo un'unica comunità che abbraccia studenti, personale tecnica amministrativa e personale docente e che è orientata a prestare attenzione e che vuole competere, vuole sottoporsi alle valutazioni, sia per quanto riguarda la ricerca sia per quanto riguarda la didattica, perché quella è la leva strategica per poter immaginare che ci saranno tanti altri di questi brindisi anche durante il mio rettorato, a condizione che però non ci sia questo tipo di approccio, un approccio positivo e un approccio orientato a quelli che sono i risultati. Grazie a tutti.